bella a tutti ragazzi bentornati sull'aziali senza tempo diego e basta sono solo io oggi marco non è presente fammelo un po per uno una volta una volta l'altro beh una volta in realtà mi avete visto poco questi giorni perché il lavoro faccio un lavoro con vari strani quindi quelle partite della nazionale me ne sono viste poche quindi abbiamo deciso millesimo format sul nostro anale monologo e questo sarà il mio monologo su tutto quello che è successo un po questo mese nel mondo calcistico da lazio soprattutto tra l'altro appunto ci vediamo da l'ultima partita dell'italia in cui sono sparito durante la reaction sono notato a fine primo tempo sono andato io appunto a lavorare quella partita che finì mi pare con la vittoria dell'italia e quindi la vittoria degli europei a favore degli inglesi a Wembley abbiamo vinto contro gli inglesi stavamo sotto 1 a 0 non andiamo subito no oddio scabinò me scabinò me bu tre pezzi in quel posto agli inglesi non voglio più di niente a riguardo perché insomma hanno parlato tutti però l'unico voglio mettere un po di dana nella piaga su questa nella piaga su questa cosa dei del fair play in inghilterra che pensavo fossero un po più sportivi invece invece no hanno rosicato sono ancora rosicato bellissimo ho visto tanti post sui social una con la foto di chiellini che prende per la collotto la saga che dice questo è il loro capitano loro sono fieri di aver vinto in questo modo io sono fiera di aver perso ma giocando un calcio pulito ora c'è sa che gli hanno detto sotto a quel post spero per lei non che abbia chiuso i suoi social e dai ancora questa storia vabbè poi loro a insultare i giocatori i loro giocatori che hanno sbagliato i rigori le vassa la medaglia lasciamo stare lasciamo stare e la cosa bellissima è che appunto questi meme sono stati fatti sono fantastici la nostra goliardia non ha non ha uguali neanche 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 lì ci facciamo battere in Europa ragazzi troppo divertente le cose di chiellini che tirava mai a saga l'ho vista in tutte le salse la mia preferita forse è quella in cui gli impedisce di di mettere il ketchup sulla pasta o l'ananas sulla pizza ma ho visto anche chiellini che salvava saga dal dal pullman insomma l'autobus rosso a due piani condinese e tanta tanta gioia grandi grandi azzurri grande gruppo bravo mancio tanti extraziali c'era pure attire lombardo c'era un preparatore che prima era un preparatore della Lazio più di uno tra l'altro tanta roba e immobile vabbè brevemente basta basta dire cose negative su immobile è il capo cannoniere d'italia insieme a locatelli insieme a chiesa è il capo cannoniere d'italia due gol ha fatti ha fatto due gol poi non è andata come dove andare non è il suo ruolo quello non è il suo modo di giocare lo sappiamo quel quel butterato dei cassano con tutto rispetto per butterati bravo mancini soprattutto perché ha vinto l'europeo senza un attaccante quando ci arriva in campo fenomeno che abbiamo fatto niente usciti ai gironi dai famola finita vabbè lasciamo stare e niente che volevo dire gli azzurri questo momento del sfogo e laziali quindi il giro e acerbi e freschi peschi di vittoria ora si merita non insomma un po di vacanza dopo di che torneranno insieme al gruppo e con loro anche correa correa anche fresco vincitore del proprio torneo continentale insomma l'argentina saluti tutti ha vinto un finale contro il brasile la coppa america correa ne ha giocato tantissimo anzi finale semifinale in tribuna proprio però insomma torna anche lui contento e vincitore il 31 luglio si incontreranno a formello e poi il 2 agosto andranno a raggiungere il gruppo per la seconda parte del ritiro cioè quella in germania a marienfeld e quindi insomma anche loro incontreranno sarri e cercheranno di assorbire questi nuovi meccanismi di gioco e parlando appunto del ritiro la notizia della settimana no è questo questo giocatore di nome luisa alberto che fa il burlone vengo non vengo vengo non vengo si è detto un sacco di cose ragazzi sappiamo i giornali devono parlare soprattutto in questi periodi pensavamo che erano sazi durante insomma dopo la vittoria dell'europeo invece no continuano a sprologuare non si sa chi a chi dare retta c'è chi dice che lui aveva avvertito perché doveva fare una terapia particolare alla capiglia c'è chi dice che invece no lui sta facendo questa cosa apposta per far abbassare la sua valutazione perché volesse venduto perché vuole andare milan noi parliamo vuole andare milan e c'è chi dice invece che no lui appunto anche qua aveva richiesto un prolungamento delle vacanze perché la moglie faceva 30 anni e lui doveva festeggiare con lei e secondo me questa è la più plausibile l'ultima perché il personaggio che è lui ce lo vedo insomma di no vabbè amore però dai chiamo chiamo la lazio vi dico che arrivo più tardi perché tu sei molto importante sei al mio cuore sì secondo me questa è la più plausibile anche perché la terapia alla capiglia l'ho sentita un paio di volte sta cosa ma non perché avrebbe dovuto fare non si parlava di infortuni comunque e poi il fatto che lui voglia andare via ci può stare però mi puzza il fatto che lui vuole andare al milan al milan allora il milan prima di tutto non c'è i soldi e ha dovuto perdere a zero sia c'è l'anoglu che donnarumma perché non aveva i soldi da dargli per farli per rinnovare e sembra stia contando anche altri giocatori quindi e poi lui che vuole andare al milan andare i bei cappioli che insomma coppioli non giocava cioè esploso luisa alberto con inzaghi no possiamo dirlo non lo so non lo so mi mi puzza questa cosa secondo me andrà a finire con nulla di fatto resterà resterà alla lazio questa è la mia opinione anche perché come ha detto anche sarri lui ci vuole parlare vuole vedere se le scuse sono convincente certo se non lo convinci a sarri non è che lui abbozza è però e lui stravede per luisa alberto sul campo quindi ci sono buone opportunità che torni la pace e poi soprattutto io vedo commenti degli altri tifosi che dicono basta se ne va a andare uno così allora ragazzi noi purtroppo per calcio romantico sono pochi esempi felipe anderson uno di questi che voglio anche nominare più tardi però insomma non so dovemo sposare quindi se lui in campo da quello che che da di solito io lo voglio vedere alla lazio ma anche perché soprattutto a 60 milioni ma chi lo compra lo dico lo vado da 60 milioni dai 40 a 60 quindi vuol dire parte dai 60 l'unici club come ha detto sarri in conferenza che possono permettere se se cifre qualche club inglese e il paristano germen ma questi club vogliono spendere 60 milioni per uno come luisa alberto che è visto sì come un top player qua in serie a ma fuori mica tanto non è stato convocato con la spagna tante polemiche con luis enrique perché come fai come fai ma alla fine insomma gli ha dato ragione perché il gioco della spagna non so come ci sarebbe entrato luisa alberto in quel gioco e poi anche insomma in europa non è che si è fatto tanto vedere anche quando troviamo un champion solito alberto non ha proprio brillato non è considerato come altri giocatori e se io fossi una squadra europea di altissimo livello che può spendere 60 milioni vado a comprare un altro giocatore oppure spendo 30 per un altro di pari livello tra l'altro neanche con scambi di giocatori sembra possibile insomma questa ipotesi perché si parla di scambio leao tra l'altro a pari cioè alla pari scambio leao luisa alberto col milan luisa alberto su me vale un po più delleao allora qualcun altro ha detto no beh ma scambio leao romagnoli per luisa alberto sì vabbè e scambio luisa alberto in signe che ancora deve rinnovare col napoli c'è questo gelo tra le parti no ragazzi scambi non si possono fare semplicemente perché se si fa uno scambio siccome il liverpool furbamente quando l'ha ceduto alla lazio ha detto voglio il 25 per cento sulla futura rivendita del calciatore si aspetta appunto dei soldini quindi se tu scambi per esempio in signe elisa alberto anche a pari insomma senza conguagli vuol dire che devi dare una valutazione per esempio di 50 milioni 40 milioni non lo so quanto valutare e darne un quarto al liverpool senza aver incassato niente quindi capite che è un po una insomma la lazio ci va a perdere che dovresti dare 10 15 milioni al liverpool senza aver incassato denaro questa è un po la mia idea ma secondo me sarà si farà pace e resterà alla lazio vedremo un po e appunto parlato di frilippe anderson che è tornato non ne avevamo ancora parlato insomma perché non è ancora ufficiale è tornato ad ronzo si allena tra insomma baci abbracci dei compagni e lui è contentissimo notito contentissimo belle le foto sinceramente simpatiche no le foto dell'incontro tra tra i due lui fai vede al buffetto un po d'attacco come nozio per me come secondo figlio non l'avrei mai venduto colpa di un zaghi ha detto ma c'è un zaghi lo la via fa molto rita sta cosa quindi vabbè ma lui si fa se vuole bene il pipe è un bel personaggio sono contento c'è parte della tifoseria una minoranza che non è invece convinta del suo ritorno perché insomma minessere riscaldate cose varie però ricordiamo ragazzi che c'ha 27 anni e nel pieno 28 28 e nel pieno della sua maturità calcistica anche se ha perso due tre anni importanti ha fatto il primo anno molto buono col West Ham poi è ricalato e poi in prestito al Porto doveva rifare un'altra volta al quinto centrocampo come con Zaghi ha lidiato con Cesare quindi non ha mai giocato ma con Sarri che è un datore che stravede per lui e può motivarlo tornando all'ambiente in cui ha amato come a Roma e alla Lazio in un modulo in cui lui può fare le fiamme secondo me può fare le fiamme cioè può levarsi qualche soddisfazione lui e qualcuno a noi se riesce a mantenere ovviamente la continuità la cosa che ha fatto notare anche Sarri no che è un po' la cosa che gli manca la cosa principale che gli manca è la continuità di rendimento vediamo un po' intanto durante la prima partitella è andata da segno quindi insomma che vale quello che vale durante una amichevole insomma partitellamente a Oronzo però c'è e ha segnato su assist di Raul Moro Raul Moro che è un altro giocatore che pare sia in buona forma ripeto sempre durante gli allenamenti del ritiro però insomma pare che stia sul pezzo anche lui e pare si assorbendo bene gli schemi di Sarri anche perché è un giocatore così giovane che parte probabilmente da zero con un nuovo allenatore potrebbe assorbire un animale assorbire più velocemente gli schemi rispetto magari a un giocatore un po' più grande che si deve abituare ad adattare a nuovi movimenti poi lui insomma nasce come ala no piccoletto così a occhio proprio si vede che è un esterno d'attacco in primavera giocava la seconda punta sempre nel 3-5-2 però si allargava molto e secondo me può può fare bene ovviamente come riserva vedremo un po' anche perché c'è Correa che vuole e vogliono Sarri vuole convincerlo a restare vuole provarlo come alla sinistra e ci può stare lui come come prima riserva si parla cioè si aspetta anche Lucas Romero si aspetta l'ufficialità pare sia fatta no questo giovane calciatore argentino d'origine messicane del Mallorca il primo il più giovane ad aver esordito in liga a questo record esordì a 15 anni contro Real Madrid appunto col Mallorca e l'anno scorso ha fatto la seconda divisione la serie bispagnola ha fatto qualche presenza è un giocatore di ottime speranze il nuovo Messi come altri mille nella storia però insomma tutti i piccoletti che giovanono avanti tutti i nuovi Messi gli argentini e vediamo 17 anni ancora da compiere e farà la spolla tra primavera e prima squadra io vede due giovani così in panchina pronti a entrare non è che mi dispiacerebbe la gioventù mi affascina in questo campo quindi vedremo un po' che succederà però qui c'è anche Kamenovic che anche lui finalmente è arrivato nonostante c'è nell'aria questo è tornato l'indice di liquidità è stato fermo a Formello non so perché per qualche giorno non è potuto partire per i problemi di burocratici l'indice di liquidità non so perché era già stato comprato a gennaio vabbè non si capisce niente regale con queste cose e comunque ha raggiunto i compagni ha osservato la prima parte degli allenamenti ieri da lontano e a bordo campo e poi ha fatto la partitella è stato provato prima da terzino un quarto d'ora e poi da difensore centrale centrale di sinistra parebbe fatto un buon insomma abbiamo un buon impatto un buon impressione ovviamente è giovane anche lui vent'anni vedremo che succederà al futuro con i vari dopo i vari allenamenti perché una partitella non dice niente si è appunto alternato in questi due ruoli a Yusai l'altro nuovo acquisto Yusai che è un fedelissimo di Sarri uno dei cacciatori che ha giocato di più con Sarri a me non mi fa impazzire però è un giocatore affidabile duttile appunto provato in più in più ruoli di destra sinistra ma anche centrale e conosce Sarri l'ultimo anno non è stato il suo anno migliore qualche errore di troppo anche compromesso direttamente secondo qualcuno proprio la qualificazione in Champions per per il Napoli a caso di qualche suo errore quindi però anche lui del 94 quindi 27 anni è giovane e nel piano della carriera anche lui e Costarri può riconfermarsi è sicuramente una buona buonissima alternativa alternativa titolare non se sa chi giocherà a sinistra terzino non se sa e non compra un altro boh non si capisce secondo me giocherà lui di titolare a sinistra o Kamenovic subentrante o Durmisi o Lukaku Dio ce ne scampi da Durmisi per favore a parte Lukaku manca andato in ritiro sapete voi il perché non lo so vabbè e a destra Lazzari e Marosic che si alternano sarà questa comunque serve un difensore centrale ragazzi uno di questi sarà approvato uno tra Marosic di Usai e Kamenovic sarà approvato fisso difensore centrale perché Luis Felipe si è rifatto male problema insomma affaticamento muscolare non è una cosa grave però non è la caviglia no però ancora dimostra che la sua fragilità la sua fragilità lui e Rado sono fatti male tutti e due affaticati e Rado lo sappiamo però ha 36 anni e lui è ancora così quindi che significa serve intervenire anche per il difensore centrale si parla di Rugani non è un fenomeno non è diventato quello che si prospettava quando era all'Empoli gestito da Sarri proprio e quindi vediamo che tutto un po' torna poi alla Juve ha fatto male nella difesa 3 quando è tornato Sarri è stato insomma ha fatto qualche altra partita con la difesa 4 quindi da centrale classico quello che ho abituato ha fatto meglio però i Juventini non non sono contentissimi però secondo me dobbiamo sentire il giusto le polemiche le lamentate dei Juventini perché sono sono tifosi e Torino soprattutto è una città e la Juve è una società in cui devi far bene subito se no sei bersagliato anche Bernardeschi può fare molto meglio di quello che fa la Juve perché ha tante pressioni e non riescono a reggere questo tipo di giocatori probabilmente è vero che Rugani è andato a Rennes e poi in prestito anche in Spagna e non ha fatto bellissimo neanche lì però si potrebbe provare un giocatore di ruolo se si abbassa lo stipendio e il cartellino non costa eccessivamente si potrebbe provare a prenderlo però insomma vediamo un po' vediamo un po' se tornando con Sarri anche lui si possa ringalluzzire e niente ragazzi poi ci stanno Basic e Camara che il centrocampo anche ha bisogno dei rinforzi secondo me bisogna fare un bel pacchetto di tutti i giocatori che non vendiamo che non giocano possibile non ce la famo a vendirli a un euro due euro l'uno un milione due milioni di euro l'uno Patrick Gondo tutti questi sono tornati dalla Salernitana Vavro anche i Cataldi sinceramente no beh Cataldi no dai deve rimanere per spirito per dare insomma per fare spogliatoio però sono tanti i giocatori che possono essere venduti anche a poco vendiamoli sono una decina vendiamoli 10 milioni io che ci rifamo e vabbè comunque si parla di questo Basic c'è una pista del Girondin del Bordeaux che doveva retrocedere per problemi finanziari ma è stato acquistato dall'ex presidente del Lille quello che uno abituato a vendere a peso d'oro i suoi calciatori rivediamo Azzar, Leao insomma si aveva fatti i paghi a tutti quando era a Lille quindi insomma con la retrocessione nel caso di retrocessione Lazio avrebbe potuto prenderlo a zero il buon Basic classe 97 c'è sulla pista tuttile fisico alto un bel passo che gioca in tutti i ruoli del centrocampo e invece appunto con il nuovo presidente pare e la permanenza in Serie A del Bordeaux pare la richiesta sia di 6-7 euro con quella cifra non proibitiva non andiamo a fare pulciare su 6 milioni di euro ragazzi scusate non andiamo a fare pulciare su 6 milioni di euro perché veramente è ridicolo mi sembra un buon prospetto 23 anni proviamoci e ancora meglio Camarà Camarà del Marsiglia classe 99 valutato 15-20 milioni si vuole mettere in mezzo Escalante ma è contropartita che sembra piacere al Marsiglia certo 15 milioni sono un po' tanti però è un giocatore che li vale tutti ripeto classe 99 un bel massino al centrocampo un bel prospetto speriamo speriamo bene perché serve gente pronta lì e poi l'ultima fresca fresca stavo leggendo ritorno di fama per Shakiri abbiamo già provato a prenderlo ricordiamo prima degli europei però il Liverpool vuole 15 milioni il Lazio ne offriva 10 quindi poi alla fine niente di fatto e pare c'è sia questo ritorno di fiamma dall'Inghilterra dice forte Tare e la Lazio su Shakiri hanno alzato l'offerta a 12 milioni e insomma l'intoraggio del Lazio quindi vediamo che che succederà manco lui non è me fa impazzire però pensare di avere titolari perché alla fine saranno tre titolari non è bruttissimo ma diciamo che sei coperto lì poi sulle ali e poi puoi aggiungere un poi sono tutti e tre giocatori che possono giocare alla fine su tutte e due le fasce magari Correa meno a destra più a sinistra ma sia Shakiri che Felipe possono giocare sia a destra che a sinistra quindi avere poi delle giovani promesse come Ralmoro e Romero che possono subentrare potrebbe essere molto interessante e quindi questo è ragazzi da Auronzo e sta piovendo molto e gli allenamenti sono un po' problematici perché insomma sto palla a terra classico di Sarri non può essere provato al meglio però insomma c'è speranza per i giorni futuri di vedere il sole proprio nel senso letterale del termine e niente che altro dire i calendari sono usciti i calendari il derby alla sesta il 26 settembre il Milan alla terza pare sia un calendario molto equilibrato per la Lazio perché ci sono solo due partite importanti una tutto rispetto per le altre insomma Juve e Napoli una dietro l'altra però il resto sono appunto ben distribuite su tutta la stagione qual è la novità di quest'anno? Il calendario asimmetrico abbiamo sentito tutti no? cioè che la prima giornata di andata non è uguale alla prima giornata di ritorno le partite si scambiano non per la Lazio però perché Empoli noi avremo sia la prima di andata che la prima di ritorno vabbè però insomma pare abbiano fatto sta cosa per evitare di avere troppo squilibrio per qualche squadra rispetto ad altre per esempio una squadra si ritrova avere quattro partite difficili tutte nello stesso periodo sia l'andata che il ritorno potrebbe essere svantaggiata invece così fa il sorteggio l'andata fa il sorteggio a ritorno e poi essere più fortunato in una dei due gironi secondo me è una gran cazzata nel senso le partite le devi vince comunque soprattutto le squadre dei vertici devono essere interessate poco a questa storia perché se devi vince devi vince è la classica mossa secondo me da chi è ai piani alti per far vedere che abbiamo fatto qualcosa ci siamo mossi abbiamo fatto una cosa rivoluzionaria infatti già oggi sentivo proprio le dichiarazioni ci siamo messi a livello di altri campionati europei che già fanno questa cosa da molto tempo vogliamo svecchiare vogliamo ripodernizzare vogliamo rivoluzionare il sistema calcio in Italia bla 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 ci saranno sono cose molto più importanti da fare tra l'altro si parla pure di campionato a 18 squadre e vabbè ma dei playoff e play out cioè io ne voglio sentire queste cose ragazzi cioè vado a fare altri sport queste cose il campionato è un campionato devi fare 38 partite 36 partite devi fare tutte se arrivi prima arrivi prima non è che poi arrivi primo però il terzo può vincere il campionato perché poi saranno i playoff buona cazzata vabbè comunque oggi sono così è polemico e niente l'ultima cosa curiosità insomma non ricordato a radio 6 per quanto riguarda il calendario è che sì è vero è equilibrato per la Lazio ma ci sono le sei partite che si giocheranno subito dopo le sei partite dei gironi di Europa League per la Lazio saranno tutte partite molto difficili quindi il derby è subito dopo una partita di Europa League l'Inter, il Napoli, la Juve, l'Atalanta e l'ultima la Sampdoria la meno complicata delle sei però per fare capire che quando ci saranno i doppi impegni settimanali dovremmo stringere i denti ci sarà ci sarà da da soffrire e quindi ragazzi questo questo è tutto spero vi sia piaciuto questo nuovo format ancora una volta mille format il monologo e vi siete beccati il suo sproloquio niente se vi becciamo domani dopo domani con un altro video non siamo a Marco e forza Lazio scrivete la campanella mettete mi piace cosa ne pensate vi piace il calendario? Luisa Alberto che deve fare? da moglie resta, Luisa Felipe che c'è dobbiamo fare? dobbiamo smontare e rimandarlo al produttore e Felipe Anderson se sei contenti? dai ciao ciao ciao